Se non è la settimana dell'anno per il Teramo poco ci manca, tre impegni molto ravvicinati a partire da quello di fatto storico di domenica pomeriggio quando i biancorossi saranno di scena per la prima volta nella loro storia al San Nicola contro il Bari un impegno che è il secondo di un trittico che comprendeva la Ternana e poi vedrà anche la regina domenica prossima in mezzo ci sarà anche la gara di Coppa Italia mercoledì contro il Siena Siamo vicini alla fine del giorno d'andata con degli impegni per noi molto importanti è una settimana la più difficile come appuntamenti visto che abbiamo Bari, Coppa Italia e poi abbiamo la regina in casa quindi è sicuramente una settimana molto complicata visto anche la doppia trasferta tra Bari e Siena quindi dobbiamo prepararsi bene a fare delle partite molto importanti, prendiamo una alla volta Sfida nella sfida anche tra i due tecnici, Tedino da una parte, Vivarini dall'altra si sono incontrati una volta, Tedino lo ricorda, in serie B quando Vivarini era sulla panchina dell'Empoli Con lui ci ha contraddistinto anche una chiacchierata forte fuori dalla stazione di Firenze nel momento in cui lui è stato esonerato dall'Empoli mi ha parlato per un'ora, mi ha fatto un'impressione ottima sotto tutti i punti di vista quindi molto preparato, una persona che vede il calcio in una certa maniera che ha una prospettiva anche lavorativa di un certo rilievo un ottimo lavoratore e una persona sicuramente all'avanguardia dal punto di vista generale Galletti sulla carta molto complicati da affrontare il reparto d'attacco è solo uno dei tre a disposizione di altissimo livello per Vivarini Ho sempre più paura, paura tra virgolette tecniche, dei giocatori forti cioè quando tu davanti trovi Antenucci piuttosto che Terrani, piuttosto che Ferrari piuttosto che incutono sicuramente timore e hanno delle qualità veramente molto importanti quindi io ho sempre, diciamo da avversario, mi incute più timore un avversario forte tecnicamente e che giochi piuttosto che una squadra magari remissiva Qualche dubbio anche in Casa Teramo si è parlato anche della nuova posizione di LASIC Minelli e Soprano sono convocati ma per il momento devono recuperare nelle gerarchie altro discorso invece per Riccardo Martignago che ha avuto una possibilità dal primo minuto contro la Ternana che per il momento è un dubbio che Tedino lascia fino all'ultimo istante fino a poco prima del fischio iniziale del San Nicolo Penso che Riccardo, devo dire come sempre la verità ha fatto un periodo piuttosto griso dovuto a tante situazioni, anche alla sua stessa credibilità è un ragazzo meraviglioso è un ragazzo intelligente che sa benissimo quando può far meglio sono dieci giorni, dodici giorni quindi la seconda settimana diciamo che sta facendo veramente molto bene in settimana sta facendo meglio è più libero, più sciolto sa perfettamente che noi in lui abbiamo riposto veramente grandissime attenzioni e soprattutto il sottoscritto sa quanto forte potrà diventare essere per il terreno calcio e questo è un dubbio che io avrò fino alla fine grazie a tutti Grazie a tutti.